Siamo sicuri che questa alleanza territoriale tra i sette comuni della costa terramana aiuterà a far crescere il turismo, non soltanto sulla costa perché l'offerta si rivolge anche all'entroterra. Così il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, alla presentazione del marchio Riviera del Gigante, in Abruzzo il mare a un passo dal Gran Sasso. Brand turistico promosso dall'ATS Città della Costa che mira a trasformare i sette comuni terramani, Alba Adriatica, Giulianova, Silvi, Tortoreto, Martinsicuro, Roseto e Pineto da competitor inalleati con un obiettivo ben preciso, promuovere beni e servizi del territorio affinché possano valorizzarsi vicendevolmente. Vedere che questo appello viene raccolto in maniera concreta e fattiva da sette amministrazioni comunali, peraltro di colori politici diverse tra loro, che si uniscono per rendere più forte il loro marchio, sfruttare con intelligenza il connubio felice che in Abruzzo c'è tra il mare e la montagna, questa immagine del gigante che dorme e che guarda il mare, e che l'effetto stupore che prende chiunque abbia visto per la prima volta nella vita, capita per la prima volta sulla costa terramana, non può non rimanere colpito da questo effetto. Proveremo a raccontarlo al mondo portando questo marchio nelle fiere turistiche nazionali e internazionali, come stiamo già facendo con tanti altri luoghi dell'Abruzzo. Comune è capofila del progetto Silvi, sentiamo il sindaco Andrea Scordella. Progetto che è nato cinque anni fa, oggi portiamo avanti la promozione turistica anche con il brand unico, la Rivera del Gigante. Non a caso guardiamo oltre, grazie alla nostra capacità ricettiva cerchiamo di allargare gli orizzonti e di puntare non solo al territorio costiero, ma guardando anche all'intera provincia e regione, perché dietro le nostre spalle abbiamo il maestoso Gran Sasso e dunque la nostra Rivera del Gigante offre turismo a 360 gradi. Grazie. Grazie.